Sono 38 le nuove guarigioni registrate ieri a Torre del Greco, certificati anche 13 casi di positività al Covid-19, tutti i posti in isolamento domiciliare. Attestato inoltre il passaggio di 3 soggetti positivi dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero, comunicato un decesso di un soggetto dal regime ospedaliero di classe 1942. Butta dunque il bilancio dei contagi a Torre del Greco, 44 soggetti ospedalizzati, 241 in isolamento domiciliare, 2.266 guarigioni e 68 decessi. Dal 29 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 a Castellammare di Stabbia sono stati certificati 45 nuove casi di positività al Covid-19 e 33 guariti su un totale di 769 tamponi effettuati. Sale dunque il numero di persone che hanno contratto il virus nella città. Sono 2.836 i contagiati totali dall'inizio della pandemia. A Torre annunziata sono 9 i nuovi casi di contagio dal Covid-19 nelle ultime 48 ore. Al contempo si registrano anche 18 guarigioni. Scende a 125 il numero di cittadini attualmente positivi, 109 posti in isolamento domiciliare e 16 ricoverati. Sale a 1.413 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1.260 guarite e 28 decedute.